Sono sei e tutti con finalità ben precise gli articoli dello statuto dell'assemblea del progetto Io sto con Petro Arcone con cui il sindaco di Cassino è iniziato ufficialmente la campagna elettorale per tentare alle amministrative della prossima primavera di succedere a se stesso. Questa assemblea è composta dai rappresentanti delle forze politiche e civiche di centro-sinistra già impegnate a sostenere la sfida elettorale del sindaco Giuseppe Golini Petro Arcone e fa affidamento oltre che sul presidente, che peraltro è lo stesso primo cittadino, su un gruppo di coordinamento composto da un referente di ciascuna lista a sostenere del sindaco e su un segretario. Interessante è quanto prevede l'articolo 5 dello statuto, l'istituzione di quattro gruppi di lavoro che si occuperanno della redazione del programma elettorale, di un centro studi, dei rapporti con il territorio e del coordinamento tra le stesse liste e componenti di questo schieramento elettorale. Un cammino che si preannuncia a lungo, probabilmente anche articolato, ma avvincente come tutte le campagne elettorali a cui abbiamo partecipato. Siamo convinti che con questo strumento ci sia una maggiore partecipazione di tutti i cittadini. Abbiamo invitato i partiti politici, i comitati, le associazioni, i gruppi di cittadini che naturalmente si riconoscono nel centro-sinistra e che hanno gradito, apprezzato, almeno in buona parte, l'operato della nostra amministrazione. Quindi ci aspettiamo questa partecipazione e siamo convinti di portare a casa un risultato che poi è quello della riconferma alla guida di questa prestigiosa nostra città.